Buonanotte. Oh. 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 La ragazza dovevi i soldi sui. Ah. Che cazzo mi avrei visto? Non è che i soldi. No, non è la misericordia. Se mi va a dire, non me ne fotte. Non me ne fotte proprio. Non me ne fotte. Scappa, scappa. Scappa, scappa. Non vado a spiegare. Non vado a spiegare. Eh. E io non vado a spiegare. Non vado a spiegare. Non vado a spiegare. E io non vado a spiegare. un'altra parte un'altra parte grazie